Tutto quello che sapete è quello che avviene, si sta lavorando in commissione, si sta dialogando con tutte le forze interessate al mondo della scuola e quindi proseguiamo linearmente il nostro lavoro. Le modifiche ci saranno? Quali modifiche? Le modifiche insomma richieste, a qualcuno le sono state applicate, sono in commissione questo? Si sta lavorando, migliorando e integrando il testo, non c'è nessun cambiamento di linea. Ma cosa cambierete nella riforma dopo la piazza di ieri? Mi fate per favore proseguire, vorrei andare a... Ministro, si rascoltava così tante persone in piazza ieri.